Dopo le due sconfitte consecutive con Isernia e Angolana, la Miternina era chiamata alla vittoria casalinga che manca da più di tre mesi. Di fronte la strea, squadra tatticamente ben impostata, è reduce dalla bella e vittoriosa prestazione contro l'ormai ex capolista sanbenedettese. Angelone deve fare i conti con l'assenza di ben tre centrali difensivi, Moauro, Valente e Varchetta, ed inventa Federici difensore. A centrocampo non c'è Berardi che parte dalla panchina esordio dal primo minuto per il neo arrivato Marongiu. I giallorossi aquilani cercano sin dall'inizio di guadagnare il predominio territoriale, ma accusano serie difficoltà negli ultimi 16 metri e di conseguenza nella conclusione a rete. Al decimo minuto, infatti, la prima occasione è dei laziali, con Giuntoli che approfitta di un'indecisione degli avversari per andare alla conclusione, ma spacca e attento e blocca in due tempi. La prima frazione è monotematica con la Miternina che cerca di attaccare e la strea che riparte in contropiede, ma la prima palla gol arriva soltanto al 34esimo ed è clamorosa. Un difensore bianco celeste respinge male, la palla si alza a campanile, Pedalino non la trova di testa e Lennart, solissimo, spara incredibilmente alto. Su calcio di punizione risponde Pentasuglia al minuto 43, ma spacca, si fa trovare pronto e respinge in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina lo stesso Pentasuglia trova la via del gol, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Di Iorio. La ripresa inizia sotto una fitta nevicata che crea non poche difficoltà ad entrambe le squadre. Dopo 12 minuti esce un deludente Marongiu per far posto a Pasquale Berardi, sarà un cambio decisivo. Al minuto 15 Battista è ottimo nell'incunearsi nell'area giallorossa dove va a terra nell'impatto con spacca. Il rigore è a dir poco generoso e scatena le proteste giallorosse. Dagli 11 metri di Iorio è implacabile ed infila spiazzando nettamente il portiere. Angelone getta nella mischia anche Costantino, un altro attaccante, che rileva lo stanco Gizzi e lancia la sua squadra alla caccia del pareggio. Occasione clamorosa al minuto 29, Federici crossa inare una punizione laterale, bene pedalino di testa, ma grande risposta di Turbacci che alza in angolo. Trascorrono 4 minuti ed arriva il gol del pari. Pentassuglia perde palla sul pressing di Berardi che simula palla al piede verso la porta laziale e colpisce con un preciso e violento sinistro sotto la traversa. Gli ultimi 10 minuti di gioco vedono la Miterlina protesa in avanti alla caccia del gol vittoria, che però non arriverà. L'ultima nota di cronaca è l'allontanamento dalla panchina di Angelone per proteste. In casa Scoppitana resta il rammarico per la mancata vittoria, ma il punto quantomeno muove la classifica e dà morale in mista del recupero di mercoledì a Teramo contro il San Nicolò. Dobbiamo dire che non siamo molto fortunati ultimamente nelle decisioni arbitrali, però nel momento in cui tutte le cose vanno male, visto oggi una squadra come la vedo già da un mese a questa parte cambiata, una squadra che si vuole salvare, una squadra che in lotta corre dall'anima e interpreta le partite tutte quante con lo spirito giusto, perché oggi c'era una squadra che doveva vincere la Miterlina. Lo sapevamo che era una partita difficile perché la Miterlina è parecchio che non vince, era in difficoltà e una volta andato in vantaggio mi aspettavo un pochino più di personalità da parte della mia squadra. Invece abbiamo cominciato a buttare palloni e il gol ce lo siamo fatti praticamente da soli e quindi alla fine il punto va bene.